gara lunga carmine partiti vai carmine così si va no no qui sono i ragazzi stai calmino non è possibile prepararsi a buona dopo di questa le piattere fino a lì ripeto le piattere fino a lì dopo di questa gara intanto buonissimo femmine e maschi buona fino a lì ripeto buonissimo femmine e maschi buona fino a lì la cammina è una grande più per il suo posto dopo di questa gara la matemazione ma anche più non c'è preta lie Aspetta, vedi che è Carmine! Vai Carmine! Vai Carmine! Vai Carmine! Vai Carmine! Ti guarda la guarda adesso! Vai Carmine! Alberto ha visto guarda! E si si fiera! Certo! Ho vinto! Quella temperatura! Che giudicina passi? Grazie! Grazie! Grazie!